La Rinascita Granata nasce dalla voglia di raccontare una stagione trionfale che ha riportato il Nardone al calcio che conta in Serie D dal campione d'eccellenza dopo un fallimento che purtroppo ha segnato tristemente la storia del calcio Granata. La Rinascita Granata è un racconto che ripercorre questa stagione rivivendo tutte le cronache delle partite che hanno visto il Toro protagonista sui polverosi campi d'eccellenza e poi dà dei ritratti ai protagonisti di questa stagione raccontando le loro gesta e dei retroscena sulle loro emozioni che hanno caratterizzato questo campionato che in ogni caso nonostante sia stata solamente un'altra promozione in D non un risultato straordinario per il Toro promosso in Serie D tante altre volte e soprattutto noto per la sua storia in Serie C è un campionato importante perché è nato nell'anno di una rinascita di una rinascita che si collega anche a questo momento importante perché dalla rinascita al sogno Lega Pro il passo è breve. Come diceva l'amico Gabriele De Pandis quindi questo racconto di storie parla appunto della rinascita di questo Nardo Calcio sotto la presidenza di Maurizio Fanulli e Maurizio Fiorentino i due imprenditori, uno copertinese e l'altro netino hanno fatto sì che questo sogno si avverasse quindi il sogno di ripartire per ritrovarsi quest'anno ad un passo dalla Lega Pro il Nardo come sappiamo tutti è primo in classifica assieme alla Francavilla Fontana alla Virtus Francavilla ci sono grandi ambizioni qui in città per riportare il calcio neretino in quella che è la Lega Pro tutti i tifosi ci credono adesso più che mai magari chissà il sogno si vorrà avverare è un racconto che oltre alla cronostoria di tutte le gare parla appunto delle storie personali di tanti personaggi e dirigenti e anche calciatori che hanno calcato il prato del Giovanni Paolo II lo scorso anno ma che sono anche rimasti come ad esempio il capitano vicedomini o ad esempio il difensore all'esterno basso Diego De Giorgi sono tutte persone legate in qualche modo a Nardo e che abbiamo voluto descrivere in delle storie brevi ma che possono lasciare il segno in ognuno che legge appunto queste storie Sì ecco Giorgio e Gabriele hanno avuto quest'idea di raccontare questa rinascita Granata appunto come si intitola questo volume ed è il focus su quella che secondo me poi è il nocciolo la particolarità diciamo di Nardo e della sua squadra ossia il calore, la passione della piazza e della città che ha permesso alla storia del Nardo Calcio di ripartire e di puntare poi magari a grandi ritorne insomma quello che ci auguriamo un po' tutti a Nardo quindi sicuramente storie importanti raccontate in queste pagine per non dimenticare una difficoltà che poi è stata subito superata appunto con il calore e con la passione della gente riguarda